beh allora non c'è nessuno in questo negozio che strazio baby dove sei ho finito il libro e voi ragazzi come state a casa state leggendo are you reading si legge è bellissimo leggere mi serve un libro lassù dalla mensola shelf le avete voi le mensole shelves chi mi aiuta david facciamo lo spelling di shelf s h e l f shelf bravi cari bravi bravi ciao ciao